Prince Harry, Spear, il minore, capitolo 17. Molti dei sessanta ragazzi di Manor House mi accolsero con lo stesso calore di Willy, eppure non fu la loro indifferenza a turbarmi, quanto la loro disinvoltura. Anche quelli della mia età si comportavano come se fossero nati lì. L'Hoodgrove, certo, aveva i suoi problemi, ma almeno lì mi sapevo orientare, sapevo come imbrogliare Pat quando venivano distribuiti i dolci e come sopravvivere al giorno in cui si scrivevano le lettere. Nel corso del tempo ero riuscito, con le unghie e con i denti, ad arrivare in cima alla piramide di L'Hoodgrove. Adesso a Eton ero tornato su gradino più basso, dovevo ricominciare da capo. Peggio ancora, senza il mio migliore amico Enners, che frequentava un'altra scuola. Non riuscivo neppure a vestirmi al mattino. Gli ettoniani devono indossare una marsina nera, camicia bianca senza colletto, un colletto bianco rigido fissato alla camicia da una spilla, pantaloni gessati, scarpe nere pesanti e una cravatta che non è una cravatta vera e propria, ma una striscia di tessuto infilata sotto il colletto staccabile. Lo chiamavano abbigliamento formale, ma non era formale, era da funerale e c'era un motivo, in teoria il lutto perpetuo per il vecchio Enrico VI, oppure per Giorgio, uno dei primi sostenitori della scuola, che invitava i ragazzi a bere il tè con lui o qualcosa di simile. Anche se Enrico era un mio lontanissimo avo ed ero dispiaciuto per la sua dipartita e per il dolore che questo aveva causato a coloro che lo amavano, non ero dell'idea di portare perennemente il lutto. Qualsiasi ragazzo esiterebbe di fronte all'idea di prendere parte a un perpetuo funerale, ma per uno che aveva appena perso sua madre era come beccarsi ogni giorno un calcio nelle palle. La prima mattina ci mise un'eternità ad allacciare i pantaloni, ad abbottonare il gilet e ripiegare il colletto rigido prima di uscire finalmente dalla porta. Ero frenetico, terrorizzato di essere in ritardo, il che avrebbe comportato dover scrivere il mio nome su un grosso registro, il tardy book, una delle molte tradizioni che dovevo imparare insieme a un lungo elenco di parole e frasi. Le lezioni non si chiamavano più così, ma dives, gli insegnanti erano i bics e le sigarette tabbage. A quanto sembrava tutti erano dei tabagisti impenitenti. Chambas era la riunione di metà mattina tra i bics e quando parlavano degli studenti, in particolare di quelli problematici. spesso in quell'ora sentivo fischiare le orecchie. Decisi che a Eton mi sarei dedicato allo sport. Quelli che lo praticavano erano divisi in due gruppi, i dry bobs e i wet bobs. In sostanza gli sport a terra e gli sport in acqua. I dry giocavano a cricket, calcio, rugby o polo. E i wet remavano, andavano a vela e nuotavano. Io ero un dry che di tanto in tanto si bagnava. Ho praticato tutti gli sport di terra, ma è stato il rugby a conquistarmi. Splendido e un'ottima scusante per giocare duro. Mi permetteva infatti di indulgere alla rabbia, quella che alcuni definivano la nebbia rossa. Poi non percepivo il dolore come gli altri e questo mi rendeva temibile in campo. Nessuno aveva risposte per un ragazzo che cercava il dolore fisico perché pareggiasse quello emotivo. Mi feci qualche amico, ma non fu facile. Avevo delle esigenze particolari. Non volevo che mi prendessero in giro perché appartenevo alla famiglia reale e neppure che accennassero al fatto che ero la ruota di scorta. Volevo che mi trattassero da persona normale e questo significava ignorare la guardia del corpo armata che dormiva in fondo al corridoio e aveva il compito di evitare che mi rapissero o mi assassinassero, per non dire del dispositivo elettronico di tracciamento o dell'allarme antipatico che portavo sempre con me. Tutti i miei amici rispondevano a questi criteri. A volte scappavano diretti al ponte che collegava Eton a Windsor passando sopra il Tamigi. A volte scappavamo diretti al ponte che collegava Eton a Windsor, passando sopra il Tamigi. O meglio, andavamo sotto il ponte dove potevamo fumare tabage in privato. I miei compagni sembravano apprezzare questo gesto di ribellione, mentre io lo facevo perché avevo inserito il pilota automatico. Certo, dopo il McDonald's avevo voglia di una sigaretta. Chi non ce l'ha? Ma se volevamo bigiare, preferivo di gran lunga andare al campo da golf del castello di Windsor e lanciare una palla mentre bevevo una birretta. Eppure, come un robot, accettavo le sigarette che mi offrivano e con lo stesso automatismo ben presto passai all'erba.